uè non fare la banana flambe da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci xyuderone uè bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video sono xyuder e ragazzi mamma mia un bel po di novità interessanti in questo video che parleranno dei prossimi giorni di fortnite insomma ragazzi è finito da poco l'evento di san patrizio è stato veramente molto bello rivedere la skin del sergente trifoglio verde e di altri oggetti ma nel video di oggi ragazzi faremo un attimo il punto della situazione su san patrizio parleremo anche ragazzi di un nuovo bundle acquistabile in soldi veri disponibile online ovviamente tutto safe al 100% e vi anticiperò anche delle sfide della settimana numero 4 ma c'è anche un altro argomento molto molto interessante ve lo dico mentre vediamo il video però ragazzi prima di tutto permettetemi di ringraziarvi grazie di cuore per utilizzare il mio codice creator xyuderone nello shop e quindi supportarmi voglio ringraziare anche tutti quelli che si iscrivono al canale e soprattutto tutti quelli che attivano la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video o sulle mie live ma prima ragazzi però la domandina ve la devo fare la domanda del video mi raccomando i vostri commenti ragazzi qua sotto e la domanda molto interessante quale skin preferisci tra queste tre ovviamente ragazzi queste tre skin hanno una cosa in comune sono tutte e tre riscattabili esclusivamente con l'acquisto di un cellulare e si parla del galaxy per la skin galaxy del dell'honor per la skin honor guard e dell's10 plus per la skin iconic qual è la tua preferita quale ti piace di più tra le tre o ragazzi a me personalmente piace di più la honor guard secondo me è la più bella è bella la galaxy l'iconic non mi piace tanto ma la honor guard secondo me è la migliore ditemi la vostra preferita qua sotto nei commenti e se volete anche il perché ma quindi ciancio alle bande e bando alle ciance andiamo subito subito a parlare di san patrizio ragazzi allora ieri era il 17 marzo abbiamo visto che nello shop lo shop si è colorato di verde ritorna ritorna ritornò il sergente trifoglio verde accompagnato dal raider fortunato che praticamente è una versione appunto esclusiva di san patrizio del motociclista bellissimi entrambi non mi è piaciuto molto il piccone del raider fortunato mentre invece bellissimo il piccone di san patrizio arriva anche il backpack la pentola d'oro la skin per le armi quella di colore verde e oro che io ho preso sinceramente perché mi piaceva non era assolutamente male e i balletti di san patrizio con l'evento di san patrizio ragazzi però nelle ultime ore della giornata di ieri domenica ha cominciato anche ad essere disponibile la modalità a tempo limitato sfumature di verde ne avevamo già parlato qualche giorno fa non avevamo ben capito perché non fu inserita all'inizio di san patrizio ma è comunque arrivata e che cosa consiste è semplicemente una modalità dove il loot presente in game è di colore verde quindi tutto non comune ad esclusione dei tesori sepolti invece lì ragazzi le armi leggendarie le potrete comunque trovare e tra l'altro una piccola curiosità per chi ha scioppato le motte quella piovono dobloni non so se lo sapevate ma sui dobloni ragazzi ovviamente c'è disegnato il lama quindi tanta tanta roba e ovviamente ragazzi la cosa più clamorosa e anche secondo me la più bella della skin dell'evento di san patrizio è questo meraviglioso arcobaleno che per 24 ore ha sovrastato i cieli della mappa garantendo quindi un'atmosfera assolutamente giusta per vivere a pieno l'evento che è stato davvero sentito parecchio dalla community di fortnite ma andiamo avanti ragazzi e parliamo eccolo qua dell'argomento di cui vi stavo anticipando all'inizio del video gli elicotteri ragazzi non possiamo più ignorare gli elicotteri qualche giorno fa abbiamo visto atterrare nella parte alta a destra della mappa il primo elicottero che avevamo già visto tra l'altro nella season 4 quando c'era il cratere creato dal meteorite qualche giorno dopo ragazzi è arrivato il secondo elicottero leggermente più in basso rispetto al primo e più esterno al rispetto alla mappa ma ragazzi da pochissime ore uno dei due elicotteri si è spostato ed ecco qua che a palmetto paradisiaco dietro palmetto paradisiaco è atterrato questo elicottero quindi perché ci sono questi elicotteri in giro e nessuno ci dice niente ragazzi io non capisco come fare a interpretare questi elicotteri ragazzi io non so se qualcuno di voi ha in mente delle idee oppure pensa che possono interferire o interagire con la nuova season 9 anche perché noi ridiamo e scherziamo ragazzi ma settimana prossima siamo a metà season cioè sarà già la settimana 5 è vero che dobbiamo ancora fare tutta questa settimana però porca miseria secondo me è volata secondo me è assolutamente volata ovviamente appena saprò qualcosa di più sugli elicotteri sarete i primi a saperli a saperlo anche voi e poi ragazzi quello di cui vi anticipavo il nuovo bundle acquistabile su instant gaming ragazzi l'unica piattaforma che propone il bundle cobra cosa cosa consiste al prezzo di non mi ricordo quanto se devo essere sincero 23 euro e 90 otterrete le due skin della set cobra quindi dissidente mi sembra che si chiami lui e lei non me lo ricordo assolutamente il set completo quindi ci sarà anche il piccone e il deltaplano probabilmente in più ragazzi 1000 vbucks ovviamente l'acquisto è al 100 per cento sicuro se decidete di prenderlo vi verrà dato un codice che voi dovrete inserire sul sito di epigames fortnite.com slash redem r e d e m in questo modo automaticamente appena loggerete su fortnite otterrete le vostre ricompense per l'acquisto una curiosità che secondo me potevano anche evitare di fare ma 1000 vbucks sono sempre 1000 vbucks e se le skin vi mancavano perché no ma eccole qua ragazzi invece le sfide della settimana numero 4 abbiamo già una bozza di quello che incontreremo e di quello che dovremo affrontare in questo giovedì andiamo a leggerle molto velocemente sappiamo che dovremmo cercare dei tesori nascosti probabilmente 3 o al massimo 5 dovremmo launch yourself through structure with a air cannon lancia dovremo lanciarci contro delle strutture utilizzando il cannone anche qua non sappiamo ancora i dati statistici probabilmente dovremmo fare un tot di danni per completare la sfida fare delle eliminazioni con armi con mirino o suppressed weapon fucile di soppressione dovrebbero essere gli ar probabilmente quindi tre kill molto probabilmente killare nemici a borgo allegro o a parco pacifico qua sappiamo di certo che saranno tre i nemici da killare atterrare a lande letali questi dobbiamo atterrare in diversi match la prima lande letali la seconda crocivia del ciarpame condotti confusi borgo allegro parco pacifico quindi cinque volte per l'atterraggio in cinque location diversi diverse sopravvivere a 90 avversari in un single match quindi in poche parole entrare in una top 10 in una partita e utilizzare la nuova girosfera in match differenti anche qua potrebbero essere tre o potrebbero essere cinque insomma ragazzi vi ricordo anche che questa settimana ci sarà lo standard segreto ve l'avevo già fatto vedere magari domani o dopodomani ve lo faccio vedere di nuovo beh ragazzi direi che per oggi le news ve le ho dette vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video mi raccomando un bel pollicione in su codice creator xuderone noi ci vediamo alle 13 in live ciao 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 ciao